bella a tutti ragazzi qui a Reign e benvenuti al terzo episodio del Let's Play di Minecraft come vedete qui ho trovato un posto e l'ho spianato vediamo un attimo se ho trovato un posto e l'ho spianato e questo qui credo sia proprio il posticino dove ci piazzeremo aspettiamo la difficoltà che l'avevo levata per spianare intanto mangiamo qui se no se morimo di fame ok intanto qui avevo piantato pure degli alberi in modo che mentre spianavo crescevano e niente ah poi ho aggiornato anche il gioco alla versione 1.2.4 non cambia niente cambia solo qualche tipo d'arenaria tipo ci sta la faccia da creeper boh una cosa strana vabbè niente allora io andrei un attimo a costruire la casa perché avevo in mente proprio una costruzione di casa molto tattica ok andiamo a prendere questo allora la casa la costruirei qui si un bel posticino qua ce l'ho una pala no vabbè la costruisco qui magari dopo spiano un pochettino allora com'era devo spiegare come volevo fare così e due tre pare e quattro ops dai mi servirebbe una pala spendiamo un attimo a prenderla oh intanto qui crescono gli alberoni comunque ho fatto tipo un po' di come di modalità creativa in modo che mi veniva in mente qualche qualche modo per fare le case perché volevo fare una casa caruccia intanto qui rompiamo sta terra che ci dà il suo fastidio comunque ragazzi non so se l'avete visto ma e ho ho fatto ho preso anche il pvr e ho iniziato a fare pure video quindi qua metterò la descrizione cioè in descrizione metterò il porco di come cazzo ecco qua metterò il cosa del del video è un po' stortignacola vedi pochettino dovrei fare la porta aspettate dovrei fare la porta dei tre per farlo venire giusto scasomai se la faccio dei tre e poi faccio il contorno ok credo sia così no tanto ho sbagliato ne so sicuro che cazzo tre e quattro ecco ho sbagliato ti pareva che lo facevo giusto sbagliato tutto tutto sono ritardato allora qui stava qui 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 poi così così riprendiamo se questa questa e così sì e poi così ok quindi questa qui sarà la casa fatta così molto figa ora la faccio vedere meglio quando si alzano un po' comunque ho intenzione di comprarmi un altro microfono perché ho sentito che questo qui ah beh ho pagato 4 euro eh però si vede che ho pagato 4 euro ma che cazzo ah vedete che qua cambia pure di colore è la nuova faccia che fa a cambiare di colore pure sti cazzo sti frignetti che palle ma speriamo che c'ho quelli buoni famose un'altra mano ok comunque non credo di far video troppo lunghi perché poi c'ho pure di annoiarvi quindi faccio tipo video non so di 5 no no 5 minuti no perché già sono passati ne so 10 minuti qua intanto prendiamo un po' di di sabbia senza che me moro poi risaliamo andiamo a prendere là che ce ne sta di più intanto qui piassiamo a cosa c'è sta sabbia qua mi servono solo quattro pezzi uno due tre e quattro ok volevo cuocere uno uno stecco di sabbia che cazzo si giusto ok dopo lì andiamo a prendere pure qualche anzi no la prossima volta prendiamo pure un po' di carbone allora saliamo sopra la casa ecco qui e facciamo un altro piano è tattica cioè in realtà l'avevo fatta sulla vabbè la modalità creativa l'avevo fatta in mattoni era una cosa con due peggio delle ville americane è fatta così è un po' più brutta perché c'è sta sto legno brutto però vabbè è decente ci accontentemo qua apriamo sta finestra che c'è una bella vista sulla sulla montagna guardate che bello spera mi serve devono essere due strati fuori perché se no oh cazzo lì si sentiva qualche qualche zompi mi sa che ci sta uno spawner allora qui deve essere così cazzo ecco qua ok perché se no non viene non si possono mettere bene le finestre come voglio io quindi sono costretto a far così ok ecco ti pareva che andava tutto liscio no perché ci ho mesi allevato tipo un cuore ok ok qua ho fatto così 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 e porco dei dinci ecco è così ok questa quindi sarà tipo un pezzo di casa pezzo pezzo di cazzo ok prendiamo se tutto qua che io già ce n'ho poco di legno ok poi qui tagliamo pure qua e lo ripiazziamo ecco qui quindi questa qui sarà un po' di fondamenta di casa poi logicamente qua lo chiudiamo prima che si fa notte io mandrei a prendere qua tutto e già i zombie si sentono so se voi lo sentite questo lo famo continuare dopo e sediamo dentro casa anzi no mi viene un attimo un pochetto di carbone se riesco a salire ecco qua se raccattiamo sto poco di carbone oh dai ecco quanto ce ne sta il carbone sempre quando devi fare cose di fretta te ne esce tipo una miniera di carbone poi alla fine lasciarlo ti dispiace pure boh guarda che tattica casa mia c'è proprio oh cristo un altro creeper non ce lo potevano mettere no eh mettiamo questo qui se famo la porta ma se me la faccio con questo la porta vediamo la porta negra no dio si avrà impallato tutto un boccamo dentro ciao ok allora ragazzi mi piace un attimo mi sono sbagliato dio quanto so zingaro ok mi pio ste finestrelle ok quindi io direi che il primo la prima parte dei caldi è fatta qua termina quindi il terzo episodio mettete un bel mi piace che così mi incoraggiate pure a continuarlo se vi piace e niente visitate il mio canale e bella ciao 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 Grazie.